Ben ritrovati a tutti da Francesco Amodeo a questa nuova puntata di Fuori dalla Matrix. In realtà in questa puntata riprendiamo quanto abbiamo raccontato la volta scorsa ed andiamo orto e quindi una puntata che abbiamo voluto dividere in due per darvi tutte le informazioni possibili. La volta scorsa per chi non lo avesse visto abbiamo parlato di quello che nella mia inchiesta ho definito il cartello finanziario, il ruolo di tutti gli uomini che hanno preso in ostaggio l'Italia dal dopoguerra fino ad oggi. Abbiamo parlato dei trattati che l'Italia ha firmato con gli anglo-americani nel secondo dopoguerra, l'armistizio di Cassibile e poi il trattato di Parigi dove veniva sancita la nostra completa subalternità agli interessi americani. Abbiamo visto che quei trattati sono stati firmati da chi poi diventerà addirittura direttore della CIA. Abbiamo visto la figura di Allen Daltz, il più spietato direttore della CIA, il cui fratello John Foster Daltz parallelamente era segretario di Stato americano. Abbiamo visto la figura di James Angleton come capo del controspionaggio della CIA e la figura di Papa Paolo VI, Joan Battista Montini che da collaboratore dell'OSS di Allen Daltz e di Donovan arriverà poi a diventare Papa. Ed sarà lui che nominerà Paul Marcinkus, quell'uomo spietato che andrà ad integrare la Banca del Vaticano con la finanza nera statunitense, con uomini come Roberto Calvi, Michele Sindona e Licio Gelli. Quindi abbiamo visto che questi personaggi avevano un potere enormi. Avevano in mano il Dipartimento di Stato con John Foster Daltz, avevano in mano la CIA con il fratello Allen Daltz, avevano in mano il controspionaggio, avevano in mano il Vaticano con Papa Paolo VI e con Paul Marcinkus, avevano in mano la finanza che gestivano attraverso personaggi come Roberto Calvi, come Michele Sindona, come Licio Gelli. Avevano tutto in mano. Io per questo ho voluto parlare della mia inchiesta nel titolo di cartello finanziario. Bene, ma siamo arrivati poi alla continuità con i giorni nostri. Infatti la puntata finiva mentre parlavamo di Henry Kissinger, il personaggio che farà da ponte, quindi tra i vecchi apparati, i vecchi vertici del cartello come Allen Daltz e come gli uomini della Rockefeller Foundation che si muovono dietro le operazioni di Daltz e Donovan, con i nuovi burattinai, ossia con uomini come Klaus Schwab del World Economic Forum. Sarà proprio Henry Kissinger il ponte tra queste due realtà. Infatti Henry Kissinger muove i primi passi sotto a Allen Daltz. Abbiamo mostrato a testimonianza di ciò un bellissimo video nella scorsa puntata ed è poi l'uomo che viene integrato nella Rockefeller Foundation per creare insieme a Rockefeller tutte quelle organizzazioni che serviranno per gestire i governi in Europa. Stiamo parlando del Bilderberg, della Commissione Trilaterale, dell'Aspen Institute. Lui avrà anche un ruolo determinante nel CFR che si occupa della politica estera americana e ripeto, da uomo di Allen Daltz diventa il mentore di Klaus Schwab e questo è un passaggio fondamentale perché dà continuità a tutto quello che il cartello aveva interesse a portare avanti. Dal nuovo ordine mondiale di Kissinger e Rockefeller a quello che diventa poi il progetto di grande reset di Klaus Schwab. Tutto assolutamente su una linea di continuità. Henry Kissinger infatti lo vediamo da questo grafico, da questo estratto della mia inchiesta, il cartello finanziario, è un uomo del cartello, un uomo trasversale. Infatti guardate che cosa avviene nella sua vita. Lui parte come principale consulente della campagna elettorale di Nelson Rockefeller contro Richard Nixon. Ma è Richard Nixon a vincere e Kissinger diventa consigliere per la sicurezza nazionale e segretario di Stato proprio di Kissinger. Dopodiché Nixon è costretto a dare le proprie dimissioni per quello scandalo che ben conoscete. Viene sostituito da Gerard Ford e guardate Kissinger resta come consigliere per la sicurezza nazionale e segretario di Stato anche di Ford. Quindi un uomo assolutamente trasversale, l'uomo che doveva essere inserito sempre all'interno delle istituzioni e sempre a fianco dei presidenti statunitensi perché ovviamente aveva un ruolo molto spesso superiore a quello di facciata del presidente stesso. Guardate quest'altro grafico, Henry Kissinger è il fautore dell'operazione Condor in Sud America. Dalla operazione Condor lui guida la dittatura di Videla in Argentina ed il colpo di Stato ai danni di Allende, il colpo di Stato di Pinochet in Cile. È il promotore del progetto di nuovo ordine mondiale ed è anche il fautore dell'operazione Gladio in Italia, quella che verrà fatta gestire a uomini come Licio Gelli, che saranno ovviamente uomini che dipenderanno dalle azioni e dai diktat di Henry Kissinger. Possiamo dire che lo stesso Kissinger è stato anche, poi lo vedremo, indirettamente coinvolto nel sequestro e nell'omicidio di Aldo Moro. Mi verrebbe da dire direttamente, ma dato che io posso parlare in questa trasmissione, è mia intenzione parlare in questa trasmissione soltanto di ciò che io posso dimostrare. Qui non sentirete mai una teoria del complotto, mai qualcosa che non può essere dimostrato. Allora a me piacerebbe tantissimo parlare di Henry Kissinger come direttamente coinvolto nel sequestro di Aldo Moro perché non ne ho i dubbi, ma preferisco parlare di coinvolgimento indiretto perché quello ve lo posso dimostrare prove alla mano. Andiamo avanti, guardiamo questo articolo di Repubblica degli anni 90 dove si parla per la prima volta dei documenti che sono stati desecretati e che dimostrano che l'operazione della P2 e quella della Gladio nascono dai stessi ambienti militari e dell'intelligence che partorirono l'operazione Gladio come conseguenza di una risoluzione del National Security Council. Quindi per la prima volta in questo articolo si parla negli anni 90 del legame tra la P2 e la Gladio e quel legame era proprio Henry Kissinger. Che cosa voleva ottenere Henry Kissinger attraverso l'operazione Gladio? Attraverso la P2 voleva ottenere il no al compromesso storico. Non volevano nella maniera più assoluta che ci fosse quel patto tra Moro e Berlinguer negli anni 70. Lo vediamo in questo articolo dell'Espresso. Invece vediamo l'immagine che la regia aveva già proposto. Bene, questo è un articolo del Guardian e del Corriere della Sera che dimostra invece che Henry Kissinger era assolutamente al di sopra anche dell'amministrazione americana. Spesso andava assolutamente contro gli interessi, anzi quasi sempre andava contro gli interessi dell'amministrazione statunitense per portare invece avanti gli interessi del cartello che lui rappresentava. Infatti abbiamo visto dal Guardian e dal Corriere della Sera che addirittura boigottò gli sforzi di Carter per bloccare i massacri di Videla. Bene, a tutto questo, questi personaggi che abbiamo elencato fino adesso per formare il cartello manca ancora un piccolo tassello. Abbiamo visto la finanza anglo-americana, abbiamo visto il Vaticano, abbiamo visto i servizi segreti anglo-americani, abbiamo visto il Dipartimento di Stato ma per formare il cartello manca un ultimo tassello, ossia il ruolo della mafia al servizio del cartello stesso. Quando venne organizzato lo sbarco in Sicilia nel secondo dopoguerra, gli apparati di intelligence statunitense convocarono i membri della mafia italo-americana. Andarono a trovare in carcere personaggi come Lucky Luciano per investirli di un incarico molto prestigioso, contattare i mafiosi in Sicilia, prendere contatti perché avrebbero dovuto coadiuvare lo sbarco degli alleati in Sicilia, avrebbero dovuto stilare la cartografia che all'epoca era molto importante per i movimenti dei militari anglo-americani sull'isola e insieme avrebbero dovuto creare quel fronte comune per la liberazione. Dopodiché avrebbero avuto su promessa degli apparati americani dei ruoli di prestigio nella gestione della Sicilia, ma non solo, anche come testa di ponte tra gli apparati americani e la mafia in Sicilia. Infatti i principali mafiosi divennero anche sindaci di alcune località, come il personaggio che vediamo in foto, Don Calogero Vizzini, detto Don Calò, fu proprio Lucky Luciano, a Lucky Luciano chiesero di prendere contatti con questo mafioso, addirittura ditero la grazia Lucky Luciano per farlo tornare in Italia, per prendere contatti con i mafiosi perché l'obiettivo era quello di riorganizzare la mafia in Sicilia, annichilita dal fascismo, coordinare lo sbarco degli alleati e poi gestire l'isola in funzione anticomunista. Pensate che nel Trattato di Parigi c'è una clausola che dice che bisogna assicurare l'immunità a tutti coloro che hanno aiutato gli anglo-americani in quegli anni e si parla proprio della mafia, motivo per cui la mafia fu libera di crescere da quel momento in poi, di mettere le radici in Italia, per questo motivo i mafiosi fino ai giorni nostri sono rimasti totalmente impuniti, anche i latitanti eccellenti che non si sono mai mossi da casa propria perché gli anglo-americani avevano promesso in quegli anni alla mafia che avrebbero avuto l'immunità dato che si erano resi i protagonisti e complici di numerose operazioni dettate dagli apparati e dall'intelligence statunitense, infatti con ogni probabilità saranno quelli che premeranno il bottone per far saltare Falcone e Borsellino ma su un mandato di qualcun altro da oltreoceano, saranno anche coloro che aiuteranno gli apparati statunitensi a raggiungere i propri obiettivi in Italia. Andiamo a vedere quest'altra slide, eccolo qui, il cartello, il cartello da cosa è formato? Adesso abbiamo visto che tutti i tasselli sono insieme, quindi li possiamo racchiudere in questa slide. Il cartello in definitiva è formato da estremisti locali che possono essere i mafiosi locali, possono essere gli estremisti di destra italiani, possono essere le Brigate Rosse, di volta in volta cambiano faccia ma si parla sempre di estremisti locali che lavorano in nome e per conto di chi li muove da dietro, nella più classica operazione che viene appunto definita stay behind, quando dietro ci sono gli apparati anglo-americani che muovono le fila, muovono gli estremisti locali per portarli a compiere qualcosa nel loro interesse. Poi c'è ovviamente la mafia italiana in collegamento con la mafia italo-americana e poi ci sono i servizi segreti anglo-americani. Questi formano il cartello, quel cartello che poi avrà l'incarico qualche anno dopo di dar vita alla strategia della tensione. Vediamo in queste immagini alcune scene delle più importanti stragi di quegli anni, le più spietate in realtà stragi di quegli anni. Andiamole un attimo a ricapitolare per chi ci sta guardando in questo momento. Il 12 dicembre del 69 Piazza Fontana, una strage assurda. Il 31 maggio del 72 a Peteano, in provincia di Gorizia. Nel 73 davanti alla questura di Milano. Il 28 maggio del 74 a Brescia, nella centrale Piazza della Loggia. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 74 esplose un vagone del treno Italicus. Il 2 agosto del 1980 esplode la stazione ferroviaria di Bologna centrale. Io voglio farvi sentire un piccolo estratto di un video di uno dei magistrati che più di tutti si è occupato di queste stragi in quegli anni. Guardate se quello che dice non è assolutamente in linea con quello che abbiamo raccontato fino ad oggi. Guardate, fino a questo momento. Guardate questo video. Nel corso delle indagini che ho fatto sulle stragi che sono state commesse in Italia, dalla strage di Piazza Fontana, alla strage dell'Italicus, alla strage di Piazza della Loggia, ancora alla strage di Bologna e alle stragi di Capaci e di Via d'Amelio, dove sono stati uccisi, massacrati i miei colleghi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli uomini della scorta, si è accertato che l'esplosivo utilizzato veniva dalle basi Nato. In alcune di queste basi si riunivano terroristi neri, esponenti della Nato, ufficiali della Nato, mafiosi, uomini politici italiani e massoni alla vigilia di attentati. Come avete visto, tutte le categorie elencate da Imposimato fanno parte di quello che io ho definito il cartello. Ma il cartello non serviva solo per le grandi stragi, ma anche per organizzare delle operazioni di destabilizzazione politica del nostro Paese. Guardiamo questo schema che ne racchiude alcune. Nel 1964 il piano solo è una minaccia di colpo di Stato in Italia. L'obiettivo era quello di piegare il governo agli interessi americani. Il protagonista è Giovanni De Lorenzo, indicato dalla CIA come capo del Sifar. Sarà proprio un uomo della CIA a indicare De Lorenzo per quel ruolo. Poi diventerà comandante dell'arma dei Carabinieri, poi capo di Stato delle Forze Armate, poi il fautore dei fascicoli Sifar, ossia il più grande dossieraggio che ci sia mai stato nel nostro Paese. Fecero spiare praticamente tutti gli uomini politici, tutte le famiglie degli uomini politici, tutti gli uomini che avevano a che fare col Vaticano. Migliaia e migliaia di dossier su ogni singolo individuo che poi finirono nelle mani proprio di Licio Gelli. Potete immaginare il che uso ne fece. Nel 1970 invece il principe Valerio Borghese, uomo di James Angleton, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata quando abbiamo analizzato la figura di Angleton, il capo del contospionaggio della CIA che salvò nel secondo dopoguerra il principe Valerio Borghese dalla condanna a morte. Ebbene lo salvò perché evidentemente poi divenne una pedina nelle loro mani, tant'è vero che nel 70 fu il principe Borghese a dare vita ad un tentativo di golpe che porta proprio il suo nome. Un golpe che si stava effettuando, un golpe che era già partito, addirittura gli uomini di Borghese entrarono nel Ministero dell'Interno, rubarono tutte le armi, scesero in piazza, erano pronti a rapire il Presidente della Repubblica e altri esponenti politici quando dagli Stati Uniti arrivò una telefonata e tutto fu messo a tacere perché ovviamente gli americani erano riusciti con la controparte politica italiana a raggiungere un accordo, evidentemente perché gli americani non avevano interesse ad una dittatura palese in Italia, dato che poi le dittature palesi in qualche modo erano sempre fallite, avevano bisogno invece di qualcosa di più subdolo, ossia di un governo sottomesso totalmente ai loro diktat, ma senza arrivare al golpe militare, tant'è vero che fu fermato all'ultimo secondo. Nel 1976 invece alle elezioni politiche il Partito Comunista ottiene il suo miglior risultato e nasce qui l'incubo peggiore degli Stati Uniti, ossia l'avvicinamento dei comunisti al governo in Italia, avevamo il Partito Comunista più grande di Europa, eravamo un paese strategico ai confini con la cortina di ferro, al centro del Mediterraneo e gli apparati statunitensi avevano questo incubo, l'avvicinamento dei comunisti al governo, cosa che stava accadendo nel 1976 ad opera di Aldo Moro che stava per siglare il compromesso storico, ma nel 1978 viene rapito Aldo Moro. Vi faccio vedere queste immagini, questi documenti che dimostrano che Aldo Moro era stato precedentemente convocato da Henry Kissinger all'ambasciata americana, Andriotti dovette confessare, lo vediamo in questo articolo dell'ANSA, dovette confessare che Henry Kissinger aggredì praticamente Aldo Moro, lo minacciò intimandogli di cambiare assolutamente la strategia politica o l'avrebbe pagata cara. Moro ovviamente non cambiò quella strategia e la pagò molto cara. Allora torniamo su Imposimato, sempre da fonti che il mainstream definisce attendibile, guardiamo una intervista di Imposimato da Bruno Vespa quando fece veramente gelare tutti in studio, tant'è vero che poi Vespa, se rivedete quella puntata, si affrettò a togliere la parola ad Imposimato perché ascoltate quello che raccontò proprio sul caso Moro. Allora dottor Imposimato, lei da giudice istruttore è soccupato tra l'altro del caso Moro. Sì, non il solo perché c'eravano il quattro. Certo, è una cosa che è durata molti anni. Quali novità? Ho lavorato negli ultimi cinque anni accertando delle cose per me sconvolgenti. In questi ultimi tempi io ho avuto la fortuna di scoprire un fatto veramente grave, cioè che i servizi segreti avevano scoperto la prigione quattro giorni dopo la cattura di Aldo Moro. Questo è un fatto che difficilmente può essere creduto, ma quattro testimoni diversi, un carabiniere, un uomo della Guardia di Finanza, un uomo dell'esercito e un uomo della polizia hanno riferito questa. L'8 maggio, cioè fra pochi giorni ricorrono gli anniversari di queste vicende, doveva essere fatto un blitz che doveva portare alla liberazione di uno. Uno di quelli che doveva partecipare a questa operazione era il generale Carlo Alberto della Chiesa. Tutto questo risulta documentalmente. Un altro che doveva partecipare a questa operazione era il questore Santillo. Ed erano già pronte le squadre. E perché non la fecero? E' arrivato un ordine dal Ministero dell'Interno, per la verità, non da Dan, non si è detto Dan, perché non avvenisse questa operazione di liberazione di Moro. I sull'interno, ricordo che era Francesco Cossiga, eh? Com'è? I sull'interno era Francesco Cossiga. Sì, i sull'interno era Cossiga. Secondo il racconto fatto da un ufficiale della Gladio, che ha voluto mantenere l'anonimato, ma che mi ha scritto molte di queste cose, coincidono esattamente con altre cose dette da altri all'insaputo di questo ufficiale. Ebbene, è arrivato il 7 maggio, quindi domani ricorrono 35 anni, l'ordine di abbandonare la postazione. Benissimo, Imposimato ha fatto il nome di Francesco Cossiga al Ministero dell'Interno, dice che da lì è partita tutta l'operazione Moro, l'operazione per evitare il salvataggio di Moro. Bruno Vespa è molto scettico, addirittura dirà di non crederci durante la trasmissione. Invece sono poi emerse le prove che tutto quello che diceva Imposimato è assolutamente documentato, tant'è vero che ad affiancare, si verrà a sapere che ad affiancare il Ministro Cossiga, il Ministro dell'Interno Cossiga in quel delicato momento fu proprio un uomo inviato dal Dipartimento di Stato americano, tale Steve Picenic che poi intervistato da Gianni Minori quasi confesserà di aver indotto l'uccisione di Aldo Moro perché era contraria alla sua liberazione agli interessi statunitensi. So che quello che vi sto dicendo ha dell'incredibile, quindi ascoltiamo insieme Picenic. Una cosa poco nota è che l'allora segretario di Stato americano Cyrus Vance inviò uno specialista dell'antiterrorismo ad assistere Francesco Cossiga, Ministro degli Interni, in tutte le sue operazioni. Lo specialista era Steve Picenic che ci ha rilasciato un'intervista esclusiva. Questo è il sorprendente e drammatico racconto che Picenic ci ha fatto. Ma torniamo a parlare di come lei e Cossiga lavoravate insieme. Quante volte vi siete incontrati? No, potrei dire almeno una volta al giorno per circa 40-50 giorni e ogni giorno con una certa frequenza. Cominciavamo ad analizzare le lettere e a discutere su quanto era successo e su quali fossero le possibili interpretazioni. Io e Cossiga abbiamo passato insieme più di 40 giorni. Erano tutti concordi sul fatto che se i comunisti fossero arrivati al potere e la democrazia cristiana avesse perso, si sarebbe verificato un effetto valanga. Gli italiani non avrebbero più controllato la situazione. Gli Stati Uniti avevano un preciso interesse in merito alla sicurezza nazionale, soprattutto per quanto riguardava l'Europa del Sud. Questo era dunque il tema delle mie argomentazioni e delle mie relative deduzioni. La mia preoccupazione era estremamente concreta. Mi dicevo, di cosa ho bisogno? E ciò che nell'esercito definiamo Schwerpunkt, qual è il centro di gravità che al di là di tutto è necessario per stabilizzare l'Italia? A mio giudizio quel centro di gravità si sarebbe creato sacrificando Aldo Moro, evitando a tutti i costi che i comunisti prendessero il potere. Lei immagino che ovviamente sapesse che proprio Aldo Moro era di fatto l'uomo che stava portando i comunisti al governo. Sì, ne ero perfettamente consapevole. L'obiettivo di Moro era restare vivo e a questo scopo era pronto a minacciare lo Stato, il suo stesso partito e i suoi stessi amici. Quando mi resi conto che questa era la sua strategia, dissi, nel quadro di questa crisi quest'uomo si sta trasformando in un peso e non in un bene da salvaguardare. In quel momento stavamo chiudendo tutti i possibili canali attraverso cui Moro avrebbe potuto essere rilasciato. In quel momento stavamo chiudendo tutti i possibili canali mediante cui Moro poteva essere liberato. Davvero assurdo. Io non ho parole. Poi non so se qualcuno di voi ritenga normale che un inviato del Dipartimento di Stato affianchi il nostro Ministro dell'Interno in un momento così delicato, affiancandolo 24 ore al giorno, per chiudere i canali mediante cui Moro poteva essere liberato. Ma se abbiamo visto il ruolo degli Stati Uniti dietro il nostro Ministro dell'Interno, dietro tutte le operazioni per liberare Moro, ascoltiamo adesso questo breve estratto di Giovanni Galloni, l'ex vicepresidente del CSM, che ci spiega qual era il ruolo degli apparati statunitensi e delle Brigate Rosse, dei quali avevano scoperto i covi, ma lasciarono fare perché evidentemente quei covi serviranno dopo proprio per rapire Aldo Moro. Ascoltiamolo. Io non posso dimenticare un discorso che avevi con Moro poche settimane prima del suo rapimento. Discutevamo con Moro delle LBR, delle difficoltà di trovare i covi delle LBR e Moro mi disse La mia preoccupazione è questa, che io ho per certo la notizia che i servizi segreti sia americano sia israeliano hanno degli infiltrati all'interno delle LBR, però non siamo stati avvertiti di questo perché se fossimo stati avvertiti probabilmente i covi li avremmo trovati. In relazione ai nostri servizi cosiddetti deviati. Perché i servizi deviati italiani non sono servizi deviati, sono servizi di persone che in buona fede ritenivano che stante la stretta alleanza che avevamo con l'America su alcune questioni delicate dovevano rispondere prima ai loro colleghi americani della CIA che non al governo italiano. Dichiarazioni davvero incredibili. Nella prossima puntata di Fuori dalla Matrix, la terza dedicata alla mia inchiesta, il cartello finanziario, ripartiremo proprio da qui e arriveremo al fatidico anno, il 1992, quello da me definito l'annus horribilis, dove il golpe si trasformerà da golpe militare a golpe giudiziario, dove tutta una serie di eventi andranno a destabilizzare totalmente il nostro paese sotto tutti i punti di vista. Lo scopriremo insieme nella prossima puntata, sempre e solo qui a Fuori dalla Matrix.